Ciao, come stai? Tutto bene? Io sto bene. Non ho fatto un video in italiano tanto tempo fa e mi sentivo di farlo, perché no? E oggi parleremo di la grammatica, se è importante imparare la grammatica, come farlo, cosa penso io da questo. Se sei pronto, possiamo cominciare. Non ho fatto un video in italiano tanto tempo fa e devo dire che anche non ho praticato l'italiano tanto. È normale che magari parlo adesso peggio da due mesi fa. Questo accade, questo è normale. Non dobbiamo sentirci male per questo. Questo è completamente normale e fa parte dell'apprendimento. Comunque adesso ho il focus molto più sul svedese, per esempio, e dimentico un po' l'italiano. Non è così importante. Ma non voglio dimenticarlo tanto e ho pensato, perché no, fare un video in italiano. E sì, oggi parleremo di la grammatica e cosa ne penso io. Comunque, per esempio, la grammatica in italiano non è così diversa da altre lingue. Per esempio, spagnolo, catalano, francese. Però, per esempio, i plurali sono diversi. Ci sono tante cose. E ci sono tante cose che io non conosco personalmente, perché io utilizzo il metodo naturale. Comunque, vedo video, parlo con persone, ascolto musica. E questo metodo molto bello, secondo me è un gran metodo. Però non è un metodo che funziona perfettamente per parlare come un madrelingua. Anche non so se ci sono metodi per parlare come un madrelingua. Credo che sia poco probabile raggiungere un livello così alto come un madrelingua. E questo non è mai il mio obiettivo. Però capisco che, per esempio, se parli inglese solamente stai imparando l'italiano e soltanto impari una lingua, magari sia il tuo obiettivo parlarla come un madrelingua. Non lo so. Per me questo non ha senso, però ognuno può decidere cosa ha senso per lui, per lei. Non sono io per dirti cosa devi fare. Però per me la grammatica viene un po' da sola con l'ascolto, con quello che il mio cervello processa. E lo faccio così perché è il metodo che a me piace più e secondo me senza passione non posso imparare bene. E se per esempio devo leggere tante regole e non mi interessa per nulla, quello che succederà secondo me è che non perderò la volontà di imparare l'italiano, perderò l'interesse e questo non ha senso. Ma è vero che potrei parlare meglio se imparerei le regole. Per esempio non ho imparato mai le regole congiuntivo, eccetera. Comunque di sicuro sbaglio, però sapete bene che sempre dico qui che questo non è un problema per nulla per me. Io non ho paura di fare errori. Anche non mi piace quando parli con qualcuno che corregge ogni singola parola, ogni singolo errore. Questo non mi sembra buono per la motivazione. Se per esempio sbaglio sempre con la stessa cosa credo che sia molto buono, molto positivo avere una correzione. Però se magari sbaglio tanto e ogni volta che sbaglio si mi fa una correzione, questo non mi serve perché dopo non ho motivazione per continuare, eccetera. E per me sempre l'obiettivo principale è la comunicazione. E sì, se stai imparando una lingua completamente diversa, hai più bisogno di imparare la grammatica a livello teorico, a livello... non lo so. Però magari per questo imparo sempre lingue che sono simili alle lingue che ho imparato già. Perché magari... non lo so. Vedremo. Però mi piacerebbe anche imparare una lingua che è veramente diversa di quelle che ho imparato già, però allo stesso tempo penso che sarà... non sarà molto divertente perché ci sarà tanta teoria e... non ne ho voglia. In quel senso devo anche scegliere e dopo aver imparato tante lingue, magari raggiungere una nuova lingua, raggiunge anche più stress e soprattutto se è una lingua in cui devo imparare molta teoria prima... non lo so. Magari questo sarebbe troppo. Però non lo so, non dire mai mai. Per esempio, se penso a imparare il portoghese, questo mi fa piacere soltanto di pensarlo. Penso, ah, imparerò il portoghese, molto bello e anche... capisco già tanto, una grande motivazione, però se penso imparerò il giapponese, sì, c'è la motivazione di dire, ah, sono capace di farlo, la capacità di farlo. È un po' più l'ego, secondo me, perché... a me piace il processo e se dopo è una lingua che è diversissima delle lingue che ho imparato, sarà un processo duro, difficile, non divertente. In quel senso mi dico, ah, non lo so, non lo so se farlo, non farlo. Ci penso tanto. Magari sarebbe buono fare un corso intensivo da un mese e dopo vedere se è per me oppure no. Però non mi piacerebbe fare un corso una volta per settimana e dopo un anno dire, ah, no, però no, non mi piace o, ah, no. Preferisco fare molto durante magari un mese e vedere, ah, mi piace, non mi piace. Adesso non ho il tempo, ma mi piacerebbe farlo un giorno. Sì, come stai tu? Che cosa pensi di questo, della grammatica? Hai imparato lingue molto diverse? Come lo hai fatto? Hai perso la motivazione? O magari no, come lo hai fatto per non perderla? E questo mi piacerebbe molto perché sarebbe per me una ispirazione saperlo, saper quello che hai sperimentato tu, sì, sarebbe veramente interessante. Grazie tante. Potete lasciare un commento qui sotto, potete lasciare un mi piace, anche potete darmi un un coffee, un caffè, su Ko-Fi o potete farvi Patreon, questo è sempre un gran aiuto, chiaramente. E sì, vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine e ci vediamo presto. Ciao ciao!